Ciao a tutti amici, io sono Giulie, io sono Emily, io sono Jasmine e insieme siamo le Miracle 2! Questo è il nostro primo video in cui vi mostreremo non solo... cioè, ok, vai, ci sono, la ridico, la ridico! Siamo qui perché stiamo girando, stiamo vivendo, vai, ci sono. Questo è il nostro primo video, ma non vogliamo soltanto parlare della serie, ma semplicemente divertirci insieme. Oggi faremo una challenge con un ospite specialissimo. Ecco a voi... Leonardo e Carli! Ciao a tutti, sono una Miracle Tunes. Ciao, buon pomeriggio a tutti quanti, oggi le ragazze impareranno a capire chi veramente fa YouTube da anni. Oggi andiamo a fare la Fortnite Dance Challenge, che consiste nell'avere un secchio con dei bigliettini e ognuno di essi c'è scritto un altro tipo di danza di Fortnite. E noi dovremmo cercare di imitarlo. La cosa bella è che mio fratello ci ha provato a insegnarmi i balletti, ma io non lo guardavo minimamente e gli dicevo, ma fatteli tu sti balletti, invece no. Faremo tre balletti a testa che estraemo uno alla volta. Gli altri, cioè quelli che non ballano, decideranno se insegnarli il punto o meno. A quello che stai. Vabbè, allora cominciamo! Provinciamo! Piede e piedino, qual è il più carino? Ma la domanda? Le, e, o, ne, ha, re, z. Se ti cai? Pensate, non lo sapevo questa cosa. Piede e piedino. Qual è il più carino? Va bene, allora inizierò io. Cominciamo! Allora, ma lo spazio. Se mi ha preso quello così, ce l'ha... Hot Nanny. Benvenuti! Allora? Nanny! Hot Nanny di Renato Lecardo. Noi raga, no io glielo ho dato il punto solo per la faccia, cioè... Vabbè, ma io non ero da giardino! Allora, onesto, eh? Onesto, eh? Allora, io se tanto per la faccia gli darei il punto, cioè raga, per me, eh sì. Per me vale? Per me vale. Per me no. Che mattina, è sempre un pochino. Ma hai già... Ma seri là? Come hai fatto? È perché facciamo il giro così? Sì, vai, vai, vai. Dobbiamo regalare un orologio a Jasmine. Orange is Justin. No! Non è buono! No! Sì, si sta spezzando i piedi quella. Ma non ha le caviglie? Sembra monca. Scusate. Il mio balletto è durato di più, eh? Dopo fate uno zoom sulla sua espressione. Eh, no, è brava, ragazzi, non vale. No, no, ma chi è brava? Ma la vedi? È brava, si è fatta avere pure gli stessi baffi del personale. È stata molto brava, mi è piaciuto un sacco, io le do al punto, perché sono onesto. Io le do pure io, perché sarebbe brava. Brava! Vediamo che cosa sta scegliere. Che cosa ha scelto? Flapper. 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 Qual è il Flapper? Flapper c'è scritto. Oh, la lega è l'italiana. Quando sei in strada cerchi di evitare le cacche. Facciamo un memory. Dai, giù! Me lo faccio schifare. Ci ha detto che non era facile, ragazzi. No, è facile. E' finito il tempo. Ma che è finito il tempo? Ho visto il tempo? Sì. Oh! Ma la dai, buona. Allora, io il punto glielo do per averci provato. Io glielo do. Io ne ansi. No, no, no. Beh. Che ansia, dai. Guarda, se mi capita uno difficile ci godo. Squat kick. È tosto? Non mi ha dato il punto, perciò l'hai toccata questa. Perché l'ha spaccato più forte di me. Questa è veramente difficile. E' subito breakdance. Raga. E' subito Charlie Chaplin. E' questo assomiglia dal suo letto da Nanno da Giardino a Leonardo. Io voglio molto bene a Emily, ma... Mi sa proprio di no. No, Emily, mi sa che nessuno ti dà il punto. Però io do sempre il punto perché ci ha provato. Però io do sempre il punto perché ci ha provato. Mi saldo, potevi farlo, dai. Ma non c'è una cosa faccia. Sei un incoerente. No, su tre su due. Mi fa, prima, prima mi fa. No, mi sa che sarà la prima volta a cui non darò il punto. Un secondo dopo. E io do il punto come se... Deve esserci sempre un Alvaro Soler di Xfax. No, allora, Leonardo non è il giusto perché fa... Vabbè, do il punto perché ci ha provato. Ma tutti ci provano. No, ma la cosa più bella è che prima... Poteva registrarlo. No, non si può. Prima mi fa... Allora, non do il punto Emily. Nien' anch'io. Nien' anch'io. Cioè, che incoerenza. Però c'è stato proprio cattivo. Leonardo è un pagato. Jubilation. Com'è? Oh! Ciao! Ciao, Cilindro. Ciao! Ma perché non mi dobbiamo fare cose semplici? Più alte le braccia. Non fate nemmeno. Gli diamo il punto. Cioè, io glielo do. Io glielo do. Io glielo do perché è stato troppo. No, glielo do, dai, perché se no dopo si vendica. Tap it up. Allora, le braccia non si vengono. Non ha le braccia attaccate. Eh, adesso le attaccate. È bello, eh. Io l'ho già scordato. Non è danza classica. Però è cattivo per una volta. Perché Jasmine è brava. Mi aspettavo di più. Quindi non le do. Ah, anche io glielo do. Io glielo do. Rind the pony, mi piace. Dai, ma che è? Sì, sì. Con lo scopo io, quindi è facile. È facile. Taran, 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 taran. No, sto facendo bene, sto facendo bene, ragazzi. No. Sembra che stia stendendo i panni. Per me no. No. Perché con questa semplicità non riuscirla a fare. È l'ultima. Ma la fa forza. Il mio era difficile. Era troppo semplice. Ragazzi, secondo voi? Per me no, era troppo semplice. Siamo 1 a 0 a, non si sa, a 2. Floss. Floss. No, 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 no. Per me no, per me no. Tu si che non vale. Tu si che non vale. Sembrava una siciliana incavolata. Vabbè, per me no. Emily, mi dispiace. Emily, ci hai le braccia mosce. Eh, no. Vedete, sono cattivi. L'ho scelto. Metto sempre no, adesso non vale. È hype, è hype. No, no, fallo male. Per me no, perché poi il braccio un po', la gamba un po' più. Per me è un nì. Però comunque dai, già la maggioranza. Re-ma-ted. Scusa, lei. A lei è del punto perché ci ha provato. Solo il primo, perché era il suo primo balletto. Era più buona all'inizio. Vai. Non ha questa faccia. Che è lo stesso? Lo stanno nel cammello. Ma a me piace quello che sta facendo. Bernardo. Beh, ragazzi, per me sì. Perché è difficile. Io dico che la faccia è tutto in una persona. Sì, ma la faccia da lupo. E la faccia da lupo dovevi fare. Così. Dai. Per me stava brava. Per me è no. Per me sì. Per lei è no, perché ormai sta arrabbiata a dare a tutti e no. Sì. Bisogna essere sincero. C'è una volta. No. Allora Emily dice tutti no. Se mi dava a questo punto, le dicevo sì. No. 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 Non vedo se mi ha detto di notte. La faccia è tutta. La faccia è tutta. È la faccia è tutta. Ne. Adesso la cambia. Brava. Ti do il punto. Ti do un pugno in faccia. Ti do io il punto. E io allora le do il punto. Il pugno nel punto. Le do il punto. Per me no. Dai raga, tanto non sto vincendo con me. No, lei è incavolata con me. Perché ci mi danno? No. Allora i punti di Emily. No, no, no. Cioè raga. Adesso l'ho dato bene. Adesso l'ho dato bene. Cioè non so. Tutta corrotta. Corrotta. Adesso l'ho dato bene. Sei arrabbiata allora. No. Ai spesso. Tornate nel punto. Tu sei la migliore. Lei ti dà il punto. Ma no. Così che fa carriera nella vita. Allora stavo dicendo che adesso l'ha dato bene. Adesso l'ha dato seriamente. Vuol dire che prima non l'ha dato seriamente. No, pure prima. Che tu inizio sarei a due. E anche io sarei a un punto. Eh eh. Ah prima. Eh no perché la faccia è tutto. Sì. Va bene Emily vediamo il tuo ultimo. E' facile. No è facile. E' completamente diverso. Nello stile. Guardalo. Te lo dice un'intenditrice. E' arrivata l'intenditrice. E' qua. Ormai Julie si è fissa da me. Io do il punto Emily perché è stata veramente sfigata. Quindi per me si. Allora. Dico di no perché lo stile era diverso. I miei passi erano 50-50. Emily cosa dice? E' sta infatando. Do un pugno a qualcuno. Stasera. Per me. E' no. Siamo a due. Zero. Uno. Zero. Quindi diventerò una nuova miracoliglia. Dai ho l'ultimo punto per superandamare. Diamo l'ultima opportunità. No ma c'è. A Jasmine per pareggiare. Ci sono tanti. No no no. Sono troppo buono. Bene. Allora questo video termina qui. Ho vinto Leonardo. Grazie a tutti quanti per averci seguito. Sono stato fenomenale per solito. No è sto. Fenomenale e fortunato. E' soltanto che la fortuna non è stata equa con tutti ma essere concentrata solo in un punto. E' vero. Perché Bianco attira. E' vero. Anche lei ha avuto un punto quindi anche io. No la mia è brambia. Non c'era. Nevicando. Scrivete nei commenti quale altre challenge volete. Con quale altro ospite. Non questa. Non con decali. O pure se volete rivedere questa. No. Speriamo di sì. E' in pratica. Lasciate un like. Iscrivetevi. E quindi. Quindi. Miracle News Up.